Ben ritrovati con il telegiornale di Arizzo TV, sequestrata all'area del castello di Mammi nel comune di Castiglion Fiorentino per alcune ipotesi di reato legate a rifiuti e irregolarità del cantiere. Il blitz è scattato questa mattina in seguito ad un'attività di indagine condotta dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della procura di Arizzo e dei carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Firenze. Tutto ovviamente da dimostrare come del resto anche l'ipotesi di un interramento di rifiuti. Si tratta appunto di vicende che sono adesso al vaglio degli inquirenti e che devono essere verificate. Trattandosi di un luogo che ha un alto valore paesaggistico e culturale costruito nel Medioevo. Il castello fu eretto da Arizzo per contenere l'espansione di Castiglion Fiorentino. Adesso invece nel prossimo servizio parliamo dell'attività della polizia postale, arresti, denunce, perquisizioni per garantire la sicurezza cibernetica in Toscana. Stalking, molestia, diffusione di materiale pedopornografico, truffe online e minacce di tipo eversivo e terroristico riconducibili al fondamentalismo religioso. E' questo il lungo campionario di reati informatici affrontati anche in Toscana dalla polizia postale e dei centri operativi sicurezza cibernetica che hanno diffuso il bilancio dell'attività 2023. Nell'ultimo anno il centro operativo per la sicurezza cibernetica della postale ha denunciato 35 persone ed effettuato un arresto per reati relativi allo sfruttamento sessuale dei minori online. 4 le persone denunciate per aver adescato sempre sul web minorenni. Nell'ambito dei reati contro la persona perpetrati sul web sono state indagate 67 persone per aver commesso estorsioni a sfondo sessuale, stalking, molestie e minacce sui social network oltre che diffamazione online, episodi che hanno riguardato anche vittime minorenni. Inoltre sono stati trattati 13 casi di codice rosso, 36 poi le persone indagate per reati economico-finanziari commessi attraverso la rete. Sempre più sofisticate anche le cosiddette truffe romantiche che vedono come vittime soprattutto donne di età compresa tra i 40 e i 60 anni. Significativo l'aumento del fenomeno delle truffe legate al trending online ha finalizzato la captazione illecita di codici personali e dati sensibili. Tra le attività della polizia postale infine anche quella di sensibilizzazione e informazione sui rischi che si corrono online. Nel 2023 hanno coinvolto circa 20.000 studenti, 3.000 genitori e 1.500 docenti e sono stati svolti anche incontri informativi per la prevenzione delle truffe agli anziani. A D'Arezzo l'attività della polizia postale ha potuto contare per anni anche sulla professionalità del sostituto commissario responsabile Walter dell'Arciprete, arrivato in città nel 1985 e che il 31 dicembre 2023 ha prestato servizio per l'ultimo giorno prima della pensione. Scontro tra un'auto e una bici questa mattina ad Arezzo intorno alle 12 in via Vittorio Veneto. Una 64enne appunto stata colpita da un'automobile in transito mentre era in sella alla sua bici. Non avrebbe riportato gravi lesioni sul posto la polizia municipale e il 118. Un'incursione nella sede della CGL di Montevarchi è avvenuta stanotte. Danni al portone e alcuni contanti portati via. È un atto vile perché comunque si viene eventualmente anche solo per fare un furto a rubare a un soggetto che si occupa di povertà, di chi sta male, di chi ha bisogno d'aiuto. Sono entrati nella notte nella sede della CGL di Montevarchi alla ricerca di denaro. Per introdursi hanno letteralmente abbattuto il portone di ingresso. Un colpo nel cuore della cittadina valdarnese scoperto solo questa mattina quando la sede è stata riaperta. È ancora più vile pensare di venire a fare cassa dentro una sede che offre e permette il mantenimento dei diritti a chi ne ha bisogno. Misero il bottino, ancora da quantificare anche l'ammontare dei danni che i banditi si sono lasciati alle spalle. Si parla di rimettere a posto la porta, ridare un po' d'ordine dentro l'ufficio e poi forse saranno sparite dalla cassa un po' di contanti che era presente. Però ecco non sappiamo quantificarlo ancora. Sul posto la polizia di Stato che ha dato avvio alle indagini, intervenuta anche la scientifica per raccogliere elementi utili per risalire ai responsabili e chiarire i contorni della vicenda. Nessun collegamento ci sarebbe comunque con l'assalto a Roma della sede del sindacato, tantomeno con gli atti intimidatori registrati un anno fa a Camucia, dove sulla porta della sede fu appesa una bandiera con l'aquila e il fascio littorio. Pensiamo che non sia un atto riconducibile a azioni politiche come quanto è avvenuto a Roma tre anni fa e quanto è avvenuto un anno e mezzo fa alla nostra sede di Camucia. Questo sembra un vero e proprio tentativo di furto e di scasso. Sono oltre 300 i giorni di sconto di pena ottenuti da un detenuto a Sollicciano. La riduzione è stata decisa in base alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo. La cedo ne abbiamo parlato con il garante per i detenuti della regione toscana, Giuseppe Fanfani, con il quale abbiamo anche affrontato la situazione all'interno del carcere a Retino. Questa è un'opera che è stata eseguita dai detenuti del carcere di Arezzo e che rappresenta, se si guarda bene, una serie di pensieri profondi. C'è un'aspirazione alla libertà e anche un'aspirazione al bello. Sono tutte cose che mancano all'interno delle carcere e delle quali talvolta, quando i detenuti sono liberi, riescono a dare sfogo. Il bello e l'arte che varcano le porte del carcere, diventando così strumento di riscatto e formazione e lasciando un segno tangibile, come questa opera. A mostrarcela Giuseppe Fanfani, ex sindaco di Arezzo, avvocato penalista, oggi garante regionale per i diritti dei detenuti, impegnato da tempo a toccare con mano alle realtà vissute all'interno delle carceri toscane. Una situazione sulla quale recentemente si sono accesi i riflettori dopo quanto accaduto a Sollicciano, dove un detenuto condannato per omicidio volontario ha ottenuto dal giudice di sorveglianza la riduzione del periodo di reclusione di 312 giorni. La magistratura ha ritenuto che effettivamente fosse applicabile una normativa del 2014 che prevedeva che in funzione della situazione di degrado nella quale erano stati scontati anni, mesi o giorni di pena, fosse previsto uno sconto di pena futura di almeno un giorno su dieci. Ad Arezzo invece ormai da anni il carcere di San Benedetto attende la conclusione dei lavori di ristrutturazione di un'intera ala. Hanno restaurato tutta la parte bassa del carcere con interventi su tutti gli impianti, con il rifacimento delle celle, dei bagni, insomma. Hanno fatto una gran cosa su una venticinquina di celle circa che dovrebbero ospitare un centinaio di persone. Si sono dimenticate che le porte erano strette e ora sono fermi con i lavori, viene da ridere ma è così. Bisognerebbe che se ne occupasse la magistratura contabile di questi errori spaventosi che gravano sulle spalle dei cittadini. Il carcere ora è fermo, ospita da 35 a 40 persone. Con tanta solidarietà della gente, gli aretini sono sempre molto attenti al volontariato e alla solidarietà. E il 5 facciamo una tombola con i detenuti agliettata da doni che tanti cittadini hanno fatto. Bonus in arrivo per i pendolari della linea ferroviaria Firenze-Arezzo chiusi per i ritardi nel mese di novembre. La tratta, come riporta Firenze Today, è infatti uno di quelle quattro dove l'indice di affidabilità è inferiore al 97,75%. L'unica che interesserà la provincia fiorentina. Il bonus è valido fino al 30 di marzo e potrà essere utilizzato anche per acquistare gli abbonamenti di aprile. Siamo alla politica. Il controbilancio delle opposizioni in Consiglio Comunale ad Arezzo bocciano su tutta la linea. L'amministrazione comunale è targata a Ghinelli. Le minoranze c'erano tutte, meno una. Ogni giorno di più una città abbandonata. A parte quel mese di Natale in cui il centro storico si illumina, poi la città torna nel suo buio e nella sua abbandono, come tutti i cittadini vedono ogni giorno. Credo che ci sia bisogno di un rilancio dell'amministrazione. Questo sindaco ha la data di scadenza, probabilmente non gli interessa più. Una campagna elettorale che nel centro-destra è già partita. Tutto questo ovviamente va a scapito dei nostri cittadini. Non va bene. La controconferenza stampa di fine anno dei gruppi di minoranza in Consiglio Comunale ad Arezzo fa un lungo elenco di quello che, secondo loro, l'amministrazione targata Ghinelli ha annunciato e poi lasciato sulla carta. Una su tutte, la nuova caserma della Polizia Municipale di Arezzo che doveva sorgere in via Fabio Filzi e la questione sicurezza. La caserma di via Filzi doveva sorgere il nuovo punto della Polizia Municipale è andato a farsi benedire perché non verrà realizzato. Il punto in piazza Guido Monaco è sempre chiuso, pertanto anche dal punto di vista della sicurezza non si assicura quel diritto ai cittadini di poter girare Arezzo in modo tranquillo. Sulle politiche sociali si è espressa Valentina Vaccari, sottolineando l'assenza di attività e iniziative che possano prevenire l'abbandono scolastico, le problematiche giovanili e i disagi che possono sfociare nella microcriminalità. È stato invece Michele Menchetti, Movimento 5 Stelle, a sottolineare il progetto sul nuovo centro per l'impiego, anche questo rimasto sulla carta. Sì, diciamo che hanno parlato i colleghi delle opere pubbliche, ma a me quella che ha colpito particolarmente è quella del centro per l'impiego, in cui appunto ci sono stati, cioè doveva essere consegnato entro il 31-12-2023, invece così non è stato. C'è stata una proroga della scadenza, della convenzione, fino al 36-2025, che guarda caso coincide con il termine della consigliatoria. Quindi il centro per l'impiego secondo me è un po' l'emblema di quello che non è stato fatto ad Arezzo, cioè molte opere incompiute, tanti cantieri cominciati o perlomeno progettati e poi incompiute assolutamente. E poi lo scarso potere politico di questo sindaco nella vicenda medio-etruria, visto, hanno detto le minoranze, che il governo è dalla sua stessa parte politica e una maggioranza invece in consiglio comunale di centro-destra, che secondo i gruppi di minoranza, scricchiola. Sì, due consigli comunali importanti, bilancio e documento unico di programmazione, diciamo il programma di lavoro dell'amministrazione per i prossimi anni, bene, Forza Italia non era presente, non è un'assenza casuale, ci sono dei problemi in maggioranza, il sindaco che è il garante della maggioranza faccia chiarezza. I cittadini devono sapere se la forza moderata che appoggiava questo sindaco c'è sempre o se abbiamo un governo, Fratelli d'Italia Lega, quindi un governo di estrema destra, che appunto governa questa città. Ci vuole chiarezza prima di tutto per gli elettori di quella parte politica, ma credo anche per tutti i cittadini. Assente dai banchi della minoranza, Marco Donati, per Scelgo Arezzo. Sì, c'era un'assenza che come forze di minoranza avevamo però invitato, di conseguenza ci riteniamo soddisfatti comunque sia di aver coinvolto più persone e più forze di minoranza possibili. Clown e doni in pediatria. Questa mattina i volontari e i clown dottori, la valigia dei sorrisi della Misericordia di Arezzo, hanno portato doni e allegria nel reparto di pediatria diretto dal dottor Marco Martini per offrire un momento di gioia ai bambini ricoverati durante le festività. Ogni regalo rigorosamente classificato in base all'età dei piccoli era accompagnato da un bigliettino realizzato dai bambini della scuola dell'infanzia Il Paese dei Balocchi di Tregozzano come simbolo di vicinanza e sostegno. Ci sono dei cuccioli abbandonati che aspettano una famiglia. Vediamo. Sono stati abbandonati dentro ad una scatola di cartone nei pressi di Via Fiorentina ad Arezzo infredoliti con problemi cutanei ed affetti da giardia. A notarli alcuni passanti che sentendo dei guaiti si sono avvicinati e li hanno visti quattro splendidi cuccioli. Ci hanno chiamato perché un ragazzo portava fuori il suo cane e in una traversa di Via Fiorentina hanno trovato uno scatolone con quattro cuccioli magri, sporchi, denutriti, infreddoliti. Erano un disastro. Li abbiamo portati in canile. Erano tre maschi e una femmina pieni di rogna, di vermi, di giardia, pieni di morsi. Erano messi maluccio. I cagnolini sono stati accolti dai volontari del canile comunale gestito dall'EMPA e adesso sono pronti per l'adozione. Ora stanno meglio, sono stati curati, sono guariti, sono stati vaccinati. Uno è già stato adottato e quindi cerchiamo casa per gli altri. Sono rimasti due maschi e una femmina e saranno, hanno ora due mesi, e saranno una futura taglia media. Sono andati a tutti i tipi di famiglie consapevoli che comunque tanto il cane è sempre un impegno. Verranno una taglia media. Ora la certezza non possiamo averla non conoscendo i genitori. Quindi chi ha giardino, ma va benissimo anche chi sta in appartamento, purché abbia tempo da dedicargli. Un presepe collettivo per festeggiare l'Epifania è quello che sarà esposto nello spazio delle arti dell'ex oratorio dei Santi Laurentino e Pergentino ad Arezzo, realizzato da un gruppo di artisti. A guidarli Andreina, Giorgia, Carpenito. 19 sagome realizzate con la tecnica del mosaico, una emozionante performance collettiva nella quale ognuno diventa esecutore di un'opera d'arte. Il presepe sarà esposto il 5, il 6 e il 7 gennaio dalle 10 alle 19. A proposito di presepe, in questo caso quello vivente di Gricignano, lo ricorderete, era arrivato all'attenzione delle cronache, non solo per la bella installazione, ma anche perché era nato un agnellino proprio all'interno del presepe. E adesso arriva l'offerta da parte della rete dei santuari liberi. Adottiamo noi l'agnellino. È venuta la luce nel giorno di Santo Stefano, tra lo stupore generale, è nato all'interno del recinto dei pastori della rappresentazione del presepe vivente a Gricignano, nel comune di Sansepolcro. Adesso diverse associazioni animaliste chiedono di non destinare l'agnellino alla macellazione, ma di farlo vivere libero. La richiesta arriva dalla rete dei santuari di animali liberi, un gruppo che in diversi luoghi e anche in Toscana ospita animali provenienti da allevamenti intensivi o che è stato che hanno avuto storie di maltrattamenti. Noi chiediamo l'affidamento dell'agnellino con la mamma e possibilmente la sua famiglia nato nel presepe vivente nei giorni di Natale a Gricignano, Sansepolcro, Arezzo. Siamo disponibili a prendere in affido il cucciolo con la sua mamma, assieme alle altre pecore presenti nel presepe, dichiara la presidente della rete Sara D'Angelo, che aggiunge è un gesto meraviglioso, di clemenza e di profonda umanità affidare questo piccolo con la sua mamma e la sua famiglia a un rifugio dove possano vivere liberi e felici tutta la loro vita. Vorremmo poter accogliere nei nostri rifugi anche gli altri animali presenti nel presepe di Gricignano, quindi conclude anche il bue, l'asinello, le capre, le oche, i conigli e tutti gli altri. La pecora che ha partorito l'agnellino è di proprietà di un allevatore che proviene dalla zona di Anghiari e che aveva messo a disposizione gli animali per la rappresentazione. Gricignano ha una grande tradizione per quanto riguarda il presepe vivente che continuerà con le sue rappresentazioni anche nel giorno dell'Epifania e domenica 7 gennaio a chiusura delle feste natalizie. Torna ad Arezzo come da tradizione una befana per la città organizzata dal quartiere di Porta del Foro con il patrocinio del comune di Arezzo. Appuntamento alle 15.30 al Palasport Estra con ingresso gratuito. Sarà possibile acquistare i biglietti della lotteria come di consueto e durante il pomeriggio ci saranno le esibizioni delle varie compagnie artistiche e sportive della città. Poi l'arrivo dell'amata vecchietta che distribuirà chicchi e caramelle a tutti i bambini presenti. Una retina alle audizioni della Royal Ballet School di Londra. Si chiama Emma Ferruzzi a 13 anni, appunto un'allieva di una scuola di danza retina, la piccola Etoile ed ha recentemente superato le prime selezioni tra circa 1400 coetanei di ogni continente. La prossima selezione che poi darà appunto accesso alla prestigiosa scuola ci sarà il 21 di febbraio. Noi domani la incontreremo e vi racconteremo insomma questa bella favola diciamo così sulle punte. E adesso chiudiamo invece con un servizio dedicato allo sport, in questo caso alle quattro ruote perché prosegue la corsa, è appena iniziata, del resto all'Africa Eco Race del team Aretino Rossi 4x4. L'Africa Race è tappa numero uno, abbiamo appena conquistato il bivacco. Devo dire che è stata una bella soddisfazione perché il nuovo equipaggio Rossi Casini ha dato il massimo, si è impegnato e devo dire che come prima prova era determinante perché tutte le cose devono essere rodate a partire dalla preparazione, l'assistenza, l'epipaggio, la macchina, deve funzionare tutto e andare tutto in ordine. E devo dire che oggi un po' di difficoltà le abbiamo avute e la prima parte probabilmente si era bloccata una pinza e avevamo i freni che facevano un po' quello che volevano ma il problema lo abbiamo risolto. Dopodiché la prova ha messo sempre la dura prova tutti e due ma ci siamo affiatati, siamo arrivati qua, siamo veramente contenti. Io posso dire che Jacopo si è impegnato tantissimo, ha dato il meglio e abbiamo raggiunto il bivacco della prima tappa con zero penalità. Quindi non c'è da aggiungere altro. Meglio di così non potevo andare, per essere il primo giorno qui in Africa niente è scontato, quindi siamo proprio contenti. L'abitacolo c'era, l'assistenza sempre presente, sempre disponibile, quindi che se vuole di più. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per l'ascolto e arrivederci. Grazie a tutti.